Allora, questa è una canzone che non abbiamo mai presentato in pubblico se non stasera ed è una canzone a cui teniamo particolarmente, parla di un argomento molto brutto ma parla di qualcuno che in questo momento purtroppo non può più esserci e quindi dedichiamo a tutti quelli che volete questa canzone e quelli che purtroppo non sono più, non sono più che a noi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.